Non stai a giocare Gianluca, no, no, non stai a giocare Gianluca, non stai a giocare Quanto amo questa scena ragazzo Ad ora lì Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivà Hello Lo Shard E benvenuti in questa nuova trasmissione Siamo carichi Abbiamo qui i mercanti di orecchie Un applauso E ovviamente Mario Sturriolo Buonasera ragazzi, ben trovati, ben trovati al Cerbero Podcast con Davide Marra E Marco Chitano E Marco Chitano ovviamente Oggi siamo fratelli del baffo Sì sì, ma infatti secondo me stai molto bene così Siamo proprio italiani Cioè non so che di pirata che è fascinoso Sì, ma siamo molti italiani Dove veniva notta come ieri, notta bianca proprio bella italica Ma di moda il pirata per ora A me piace Adesso sì, è tornato di moda dopo la vittoria Vediamo questo nuovo film Esatto Allora ragazzi, oggi ovviamente come di consueto Reddit Ma prima dobbiamo parlare di una cosa incredibile Con tutti questi ospiti Dona Lee Che verrà difeso dal sottoscritto questa volta Incredibile! La tv italiana si conferma la peggiore feccia È una cosa incredibile Dona Lee è riuscito a vincere contro la tv italiana Sì È incredibile Ora vediamo, ora vediamo Livello di morale sì forse Allora, Dona Lee discute del suo arresto con i politici Abba, titolo un po' così Sul rete 4 Allora, la trasmissione è condotta dal buon Marco Del Debbio Vabbè, dritto e rovescio Abbiamo visto qualche spezzone ogni tanto Diciamo che è una trasmissione In un'ala politica abbastanza chiara Me accorgerete dopo pochi secondi Ma procediamo Dai Ma vado a Torino perché Lorenzo Caroselli ha con alcuni giovani di periferia Mi chiamate lavorarlo come al solito Eccoci Eccoci qui Paolo Allora, Ali, 21 anni, origini marocchine Ma è da 19 che vive qui in Italia Lei si sente discriminato o no? E soprattutto È vero che lei pensa che la giustizia si sia accanita con lei? Perché? Assolutamente sì Perché un giorno ero a fare una diretta Twitch E poi Un social network Sì, un social network Infatti guardate la faccia del Debbio Quando dice Twitch Ero a fare una diretta Twitch E poi Social network Cosa? Shui? Dimmi un po' Network Ad un certo punto Era un negozio da una cinese E questo qua Io ho fatto tipo la battuta Sono polizia municipale E lui mi dice Cos'hai detto? E io gli dico Polizia municipale Però lui mi ha visto con la telecamera Sapeva che era uno scherzo Però cosa voleva fare lui? Voleva mettermi i bastoni tra le ruote Perché loro Com'è possibile? Vabbè Diciamo che Diciamo che Voleva mettermi i bastoni tra le ruote Ma tutto un po' ride Sì, sì Se non fosse stato per lui Maledetti Nello scherzo sarebbe uscito benissimo Mannaggia Ma poi Ma questi dietro chi sono? I bodyguard Sono tutti così Tutti Sembrano più amici suoi Che amici del giornalista I belli incattiviti Non lo so Cioè è un caso su un miliardo Che loro sono proprio là Aspetti perché se no non capiamo Cioè lei si sente No no ma io ho capito No no scusa Lorenzo Ho capito tutto No no ma io ho capito tutto Sono il presidente So già tutto proprio No no scusa Lorenzo No 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 Io ho capito perfettamente Anzi c'è anche la clip Così la facciamo vedere E così Ebbene Ancora più E chiaramente di che si è trattato Poi dopo ne parliamo Perché mi pare un po' Eh Prego prego Guardiamo sta clip Guardiamo sta clip Io sono polizia municipale Controllare qua Se tu fai furbo o no Cosa c'è Cosa hai detto Sei polizia municipale Sì Allora Dammi il documento No non ce l'ho Polizia municipale E dopo che sei polizia Polizia municipale Allora vieni con me fuori No Polizia municipale Frega E andiamo Andiamo No non spengo un c***o Comando io a Torino Forse non hai capito Non ce l'ho a documento Vabbè io oggi Ho l'arduo compito Di fare l'avvocato del diavolo Devi Però lo farò Lo farò lo stesso Tanto già l'ho blastato Per questa cosa Quindi adesso parliamo Parliamo di come si interfacceranno I suoi interlocutori Di completezza Dai polizia municipale Venite sono qui È ovvio che sarebbe successo Che c***o volete da voi Sto lavorando io Lavorando a qualche Lavorando Sto facendo una diretta Su internet Cosa c'è Sto facendo soldi Come tu stai facendo soldi qua Andando a lavorare Io sto facendo soldi così Sto rubando Sto facendo A volte far ridere Sì 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 Ma questo l'abbiamo sempre detto Spesso far ridere Ovviamente però Come diceva Mario Prima o poi Le conseguenze No Marco scusami Le conseguenze sono evitabili Perché Sei un disturbatore Soprattutto del gente Che lavora È abbastanza inaccettabile È una sorta di sostituzione Di persona Ma comunque ne avevamo parlato Poi che faccia ridere A volte sì Beh i meme ci stanno Dai aiut polizia È un tipo esplosivo Lo dice sempre chi L'aiut Aiut Aiut Sì sì Aiut Ma io l'ho detto Anche nella primissima live Che secondo me Il potenziale Per fare qualcosa di creativo Lo avrebbe pure So che ne pensi tu No 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 Lui In lui risiede dell'energia Ovviamente Poi come la Come la espone Poi Non si vede nemmeno Nel servizio Ma lo chiama Cina Al Al dipendente cinese Del negozio È Abbastanza inaccettabile Poi l'energia ce l'ha Ma tutti penso Che siamo d'accordo Molto pagliacce Carnevalesco Secondo me È un personaggio Potrebbe Effettivamente fare cose Secondo voi Più interessanti Qual è il genere musicale Perfetto Per descrivere Don Ali Per descrivere Don Ali Tipo la musica Da circo Ok Ah io l'ho Spettacolo Ok Secondo te A chi? Ci può stare Anche perché ci stanno Alcune scene Alcuni elementi Delle Degli eventi Di Don Ali Che io proprio Non riesco a spiegarmi Sono Presentano l'assurdo Quindi ci sta La musica da circo Grazie Paggino Grazie mille Comunque Fermiamoci un attimo Poi sul fatto Che molta gente Non avrà idea Di che è Twitch Vedendo il suo servizio Su Rete 4 Ha detto Ah Twitch Vanno lì A da fastidio Alla gente Cioè Hanno pensato Che Twitch È proprio Quello che hanno visto È l'unica visione Che hanno avuto De Twitch Non c'è un'introduzione A questo tipo Di luogo Twitch è una piattaforma Oh Nairam Grazie Una piccola introduzione No Ad inizio Ma lei è un folle Ad inizio trasmissione Che so Twitch È una piattaforma Dove si fa questa No Gli è frega un cazzo Giustamente Poi sembra che Famo solo sta roba Ma sì È classicone Della tv Urla di nuovo Non mi toccare Fermati Non mi toccare Fermati Non mi toccare Non mi toccare Non mi toccare Vado Non mi toccare Vieni Seguimi dai Adesso facciamo gare Con polizia Frega niente Credono di F*** con me Madonna C'è la cervello Di gallina Inizia la grande maratona Pure sirene Dispiazza Quando ha sentito Le sirene Secondo me Ha goduto Come un pazzo Mi nascondo in garage Ragazzi Non lo so Ha pensato Porca miseria Sto a fare proprio Una cosa assurda Sicuramente In Italia Su Twitch Italia Non sarà mai vista Un primato Indubbiamente Si nutre di adrenalina Questo è certo Nel senso Inconsciamente O consciamente Si nutre di adrenalina Quando succede qualcosa Che lo mette in una situazione Di squilibrio Di rischio Si vede che gode In ogni caso O almeno sembra O almeno sembra Bisogna vedere Quanto lo fa per se stesso E quanto lo fa per Quello che gli stanno dando Per ora Vista la visibilità Vero È successo solo Su Twitch Italia Perché se succedeva Su Twitch America Non so quanto durava Eh beh sì A scappare così E vedi Parlate della ludopatia E poi portate in live Mario Vabbè ragazzi La contraddizione Fa parte dell'animo umano L'ipocrisia Non ho mai giocato Non ho mai giocato Anzi qualche euro L'ho giocato Ma nemmeno 150 Ma non parlavano Di quella dipendenza Di che cosa Di che cosa stavamo parlando Allora Dipendenza dal sesso Ah dipendenza dal sesso Allora mi sa Che hanno indovinato Così Non avrà mica Il coraggio Di difendersi No Da quanti anni è Che è in Italia Questo signore Dicevo 19 anni E Che Quanti anni è Che in Italia 19 anni 19 anni Ho capito Ma Si rende conto Ecco Adesso Scherzi a parte Al di là di tutto Ovviamente Il gesto L'abbiamo già commentato È ingiustificabile C'era Ascoltate Dove va a parare Il discorso Io ripeto La trasmissione La conosco Mi fa anche ridere Ma spesso La trovo rivoltante E c'è sempre Questa sorta Di attacco Mi ricordo Vari servizi Sui Roma Su appunto L'immigrazione È completamente Spostata In quella direzione Lì Diciamo dai Destra Estremista Comunque il pubblico Di riferimento È quello Il target Di riferimento È quello È il classico Boomer Che si deve indignare Per lo facessero A casa loro Ok La prima cosa Che ha detto Il giornalista È di origini marocchine Sì È quello Ok Ci può stare Però Perché non sa Parlare italiano Cioè Comincia Un'inquisizione Che non c'entra Nulla Col fatto Ok Tu hai fatto Una cosa Sbagliata Ok Si discute Di questo No Si parte Da Quello Che adesso Ascolteremo In Italia Questo signore Il debut Stava con Forza Italia Sì Dicevo 19 anni 19 anni 19 anni Ho capito Ma Si rende conto No In realtà Non è vero Però ok In realtà Parla normalissimo Però va bene Le gag Che hanno visto Nel video Non hanno capito Che lui Non sa Parlare Perché Dice L'infinito Lo fa pure Perché lui Certo È un po' come Diciamo così Bello figo Eh esatto Sì 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 Che Donnelly Casa mia Questa Ma lo fa apposta Ovviamente No Loro Non conoscendo Il personaggio Non conoscendo Un cazzo Si stereotipano Esatto Perché non sa Parlare italiano Si è buono Si rende conto Della roba Che ha fatto Si rende conto Di quello che ha fatto Si rende conto Di quello che ha fatto Assolutamente Ecco Si vergogna Ho avuto Anche le mie Conseguenze Però Non le conseguenze Giuste Che mi meritavo Cioè che si meritava Il servizio di leva Rifare un po' di servizio di leva Servizio di leva Esageratissima La guerra è tornata ragazzi Servizio di leva Quando era obbligatorio Se stava bene Madonna Eh ma ne stanno a parlare Madonna Che ritorni obbligatorio Sì 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 Ma ripeto Questo è un programma Che proprio Ha quel tipo di retorica lì Che vediamo sempre Nei vari post I Salvini Della Meloni Eh una volta Col militare I ragazzi Crescevano bene Eh ma Questi qui Che vengono È proprio Quella trasmissione Per quel target Ma lei lo sa cosa mi hanno dato Per questo che ho fatto Cosa le è andato Mi fate finire Quando intervisto Vabbè abbiamo capito Ok È il momento cacciara Questo Scusi Mi hanno dato Allora Che le è andato Allora A fine video Quando mi hanno preso Mi hanno messo Mi hanno messo Tre giorni In una cella Piena di merda Con uno che aveva Aveva Fatto un reato Molto peggio Invece che dovevano Sono stato Tre giorni In quella cella Dovevano fare Quando sono uscito Dovevevele tornare Dovevevele tornare Secondo me Stano pensando Questo Dovevevele tornare Dovevevele tornare Ho riassunto No? Sì Presto su Spotify Questo Come abbiamo un franto gioco A Luna Park Che dovevamo fare? Assolutamente Una gita Applauso addirittura I modi di dare una gita a Gardaland non lo so dove voleva andare assolutamente no ma adesso ti spiego tutto quello che mi è successo non c'è da spiegare se è giusto oppure no per una cosa ma scusa ma per una volta che uno ti vuole comunque dire la sua versione perché l'ha invitato per questo magari poi dice cazzate lo sbugiardi è ovvio però fallo parlare non c'è niente da spiegare ok scusa fine della trasmissione citare Gardaland è già un'esecuzione retorica ma allora che cazzo di discussione vuoi portare avanti scusate ragazzi ok grazie mille speriamo a zero su questo ragazzo mi sembra poi ripeto che sia ingiustificabile è ovvio però almeno la domanda che io farei ad un donali se venisse qui è che cazzo ti è saltato in mente qual era il tuo obiettivo non temevi le conseguenze adesso come te senti ti sei reso conto di determinate cose è servita quella condanna cioè delle cose interessanti perché se no è inutile se no è completamente inutile è completamente inutile cioè vedi un marocchino cioè questa è la trasmissione un marocchino che fa casino non sa parlare italiano dovrebbe tornare il scusa faccio schifo sei ospite chiedi scusa l'hanno invitato per guardare sei ospite chiedi scusa penso sia il riassunto perfetto sì sì molto semplicemente ci sta pure chiede scusa però almeno fallo parla prima o sbaglio ragazzi l'hanno invitato palesemente per guardare la clip insieme e smerdarlo lì davanti a tutti quando si parla di internet è molto molto facile succede spesso chiedere scusa alla polizia municipale ma scusa in cosa siete voi che mi dovete chiedere scusa condannandomi a quattro anni per una cosa sono loro che devono chiedere scusa a lei hai capito? ah sì non ho capito sarebbe la polizia municipale che deve chiedere scusa sì proprio lo Stato ah ho capito ho capito no è proprio il sistema italiano perché il sistema italiano non va proprio bene non esageriamo il sistema italiano io ce sto provando cioè nel senso non posso difendere lui posso al massimo condannare anche gli altri però il sistema proprio il sistema eh sì eh sì governo ladro il sistema perché voi come voi come pretendete che una persona cambia ascoltami posso parlare? sì parli 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 come pretendete come pretendete non è per niente grave io mi viene bella Simons dubbi stiamo vedendo Dona Lee da del debito vediamo ma che scusi ma che lei che deve fare ma lei è anche devo andare a firmare in una in una e ci mancherebbe per me ci dovrebbe andare a dieci anni altro che quattro ascolta ma lei è anche devo andare a firmare in una in una e ci mancherebbe altro per me ci dovrebbe andare a dieci anni altro che quattro ascolta che giornalista poche parole specificiamo cosino facile insomma è capito è il giornalista specificiamo su quattro anni con obbligo di firma non è detenuto diciamo non sta in carcere dai domiciliari dici no credo sia libertà vigilata con obbligo di firma va al comune ogni giorno devono andare a firmare quello che voglio dirti quello che voglio dirti che entri in galera che hai fatto una cosa e esci che ne hai fatto un'altra hai capito addirittura ma l'hai invitato te questo è un bullo non è un giornalista gli sta a dare content in realtà Dona Lee lui penso sappia benissimo che questo è conosciutissimo sul web qualcuno per lui sicuramente ti vuole mettere cazzo in testa le palle in testa esatto ma io ripeto ci sta a blastarlo quello che cazzo vuoi però almeno fallo parlare se lo inviti se no non ha senso cioè è carne da macello in quel momento si 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 così prima se no non facevi questa roba qua cosa ringrazio di che mi fai parlare ringrazia che devo ringrazia a te che parli qua non l'ho sentito la star lascia a vedere perché stai parlando con uno che sa cosa vuol dire il vero senso della vita si si il vero senso però a sto punto visto che il giornalista non mi ricordo come si chiama il debbio il debbio fa così va bene io provo anche che pure lui fa qualcosa di totalmente diseducativo già che ci siamo ma si la butta sul meme ovviamente buttiamo l'incasciara vediamo chi vince in retorica non lo so facevano sport top meme comunque alla fine se va in tv buttala in cacera può essere una tattica effettivamente come ha fatto pure social boom sono una rockstar sono una rockstar esattamente ce lo ricordiamo tutti in fin dei conti si perché tanto nel momento in cui ti rendi conto che alla fine sei una vittima sacrificale ok perché l'interesse della trasmissione che sia social boom che sia Donnelly è uno solo a quel punto sai che non avrai spazio per argomentare sai che non ti faranno parlare a dovere sai che comunque la tua opinione sarà inutile a quel punto la butti in cacciara e prendi visibilità mi ricordo chi non la buttò in cacciara ovvero ciccio gamer infatti passò per bullizzato esatto me lo ricordo dalla jalappas perché stava un po' diciamo era intimorito intimidito dalla jalappas ed era nella dana dei leoni perché c'erano tipo 6-7 che gli facevano queste domande con sufficienza quindi mago forest è vero ragazzi però il king è bello figo bello figo con Alessandra Mussolini wow la fece tiltare malissimo pure da Baccia Radurza lui c'è riuscito perché era presente in studio anche è vero è vero Donagamento come tutti gli altri che abbiamo citato tra l'altro ciccio gamer era presente in studio social boom era presente in studio in questo caso lui c'ha pure le difficoltà del delay vero quindi vabbè se stava in studio faceva più numeri secondo me sì dubbi non ho dubbi io sono educato non ho dubbi lo vedo dai guanti sì va bene così va a box qual è il problema è un gangstar lo sport ti rende forte vero terribile terribile lo vedo dai guanti lo vedo dai guanti una cosa buona che fa in vita sua è allenarsi ma sono guanti da criminale questi non credo no 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 non penso però io vecchietta che sento del debbio mi sa che ne faccio st'idea qual è lo sport qual è il sport questo non c'è più sullo steam deck no è stato scollegato scam gag basta dubbi lo vedo dai guanti sì va bene così santa maria proteggici tu allora eccola la religione cattolica attenzione è Flavia Venti no a vivere la nostra Italia no tu sei rivendichi con orgoglio i tuoi Natali tu va benissimo allora torna lì perché se tu vive nel nostro paese caro mio mamma mia torna lì cioè torna lì questo santo questa è la brambilla la brambillona che ruolo ricopre lei stava con Forza Italia la brambilla adesso non ne ho la più palla idea guarda è lei tu va benissimo allora torna lì perché se tu vivi nel nostro paese caro mio tu rispetti le nostre leggi rispetti chi lavora tutto il giorno come la polizia e la polizia municipale e rispetti la nostra cultura però per rispettarla la devi conoscere e tu non la conosci perché non parli nemmeno l'italiano ma non è vero è un canovaccio è un canovaccio ridicolo lei ormai ha visto che parlava in quel modo non ascolta più nulla ma non è vero parla come tanti ragazzi della sua età bisognerebbe seguire il codice penale civile del paese in cui risiedi non è neanche un discorso di cultura sono 19 anni che sta in Italia appunto non è un discorso di cultura è un discorso che ha fatto delle cose fuori legge è assurdo sentire queste cose sulla tv nazionale questo è proprio il punto non stanno comunicando ma lo stanno guardando in milioni è paradossale sta quasi affastata la parte di Donalì io ho detto inizio live viene voglia di difenderlo alla fine sì perché tanto il gesto l'abbiamo commentato e c'è poco altro da aggiungere ma tutti hanno diritto a un processo ma soprattutto buttano in mezzo cose che non c'entrano nulla con quello che ha fatto le cose che ha fatto Donalì tra l'altro le poteva fare benissimo anche un italiano e voglio vedere come si sarebbero comportati con lui è italiano da 19 anni Cristo più italiano di mio fratello che ha 17 anni esatto è giusto quello che dici tu Free perché non ha fatto nulla il suo essere straniero non è che ha fatto non mi riesco a spiegare ma le cose che ha fatto lui non le ha fatte perché è straniero le ha fatte perché è un coio al di là dei meme però non c'è stata nessuna cosa di clash di culture non so come dire non è che lui ha imposto la sua cultura non è un discorso culturale o di identità impara la nostra cultura non c'ha senso esatto solo perché parla così accentua fa pure un po' il personaggio ma si ma sono meno la brambilla se non sbaglio se non mi ricordo male cercate la clip fariette lei era famosa perché durante un ino non ce l'ha fatta ha alzato la mano nel braccio destra e ha detto a noi alla fine la brambilla sei sicuro mi sembra di sì mola google andiamo subito se non sbaglio no 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 vediamo subito perché Marco se non ti prendi una bella querela qui no no se un errore lo vediamo lo nichiamo insomma mi sono sbagliato brambilla ho cercato brambilla a noi però no saluto romano questo è l'altro saluto romano e ti saluto romano esce davide mar saluto romano eh sì me lo ricordavo ci avevo paura adesso che mi è sbagliato e lei ha pure detto vabbè ragazzi è culturale l'ho fatto sempre tutta la mia famiglia non ho resistito non mi ricordavo non mi ricordavo fosse stata pure ministro del turismo del turismo non me lo ricordavo proprio durante questa cosa qua era ministro eh sì ma che era il governo di Berlusconi sì sì mi sembra che sia ma non ci voglio credere ma non ci voglio credere viva l'Italia ma che schizzo è proprio scappato si vede un po' che è tutto è tutto il stranamore è tutta l'enfasi ma è un dottor stranamore un quale c'è una specie di molla una specie di molla sul gomito capito è fantastica sta cosa Marco non sarei querelato perché hai detto una cosa fattuale meno male meno male sono stato in sacco di anni non mi ricordavo è stato più forte di lei non giudichiamola un impulso irrefrenabile è così è culturale ragazzi quella è cultura italiana effettivamente impara la cultura italiana sì come quello della formula 1 che giocava nell'Italia quando ha fatto il saluto romano con l'inno non so se vi ricordo era culturale e rispetti la nostra cultura però per rispettarla la devi conoscere e tu non la conosci perché non parli nemmeno l'italiano dopo tutti questi anni che sei nato brava brava era russo sì però stava mi sa in un sottoscudere italiana mi sa che è giusto quello ha detto Marco il pilota sì era russo però comunque c'era l'inno italiano sì perché c'era il discorso dei russi che non potevano competere a varie competizioni sportive e lui riuscì a competere per l'Italia con un discorso di nazionalità sì non mi ricordo potrebbe essere pure semplicemente che magari aveva vinto cioè fra i tre che avevano vinto c'era l'inno d'Italia comunque lui ha fatto il saluto sotto l'inno italiano mi ricordavo passaportato vabbè sì questa cosa ok a italiano è davvero italianissima sì lei sì super italiana cioè da una scala da 0 a 100 non so veramente forse 95 italiana sì è più italiana che mai se io sono qua signora se io sono qua un attimo un attimo un attimo se io sono Maria e Maffae in più hanno un'altra cosa che non si sentono in casa loro perché pensano che questa nazione sia loro nemica ed è colpa è colpa di 20 anni o 30 anni di politiche che hanno distrutto questa nazione bravo che c'è Lorenzo che c'è che c'è che c'è che vuol dire quello che voleva dire dica dica Zaccaria Zaccaria lì non voleva parlare Zaccaria 23 anni volevo rispondere al signor Borgonovo prego volevo rispondere al signor Borgonovo dicendo che non mi sembra una cosa molto elegante sminuire una persona nel modo in cui parla lei è una persona molto più grande dovrebbe dare un esempio di educazione e rispetto dovrei dirgli che devi imparare l'italiano sembra proprio una cosa poco elegante proprio essendo più grande parla in italiano annichilito annichilito sì impara l'italiano e lui ha detto ma impara l'italiano parlava italiano benissimo Zaccaria maggiore rete 4 ragazzi geniale raga ma questa cosa è terribile è andata in diretta è tremenda è terribile sa che era pure registra ah no no era in diretta lui stava in videochiamata madò madò sembra proprio una cosa poco elegante proprio essendo più grande mi permetto di dire a un ragazzino mi permetto di dire a un ragazzino che deve imparare l'italiano prima di frignare come ha fatto come un mezzuomo questo ha fatto mamma mia addirittura prendete il mezzuomo cosa? di frignare come un mezzuomo ma mezzuomo vabbè ma la follia nel senso fantasy come un hobby eh sì mezzuorco si leggeva Tolkien cioè ragazzi veramente cioè perdere un dibattito con Dona Lee e i suoi amici di palestra è ardua come impresa ha letto se ce le vuole ricordiamo ricordiamo pure che Tolkien comunque era approvato dal Mussolini come scrittore da leggere top e tre più apprezzati tra vabbè poi c'è stata un po' una rivisitazione in chiave diciamo estremista per il pubblico medio per il pubblico medio dei dritti rovescio però purtroppo l'ha vinto il dibattito bravo bravo gliel'ha detto e quattro come se poi il classico boomer ignorante parlasse bene italiano ne sono certo bravo ha detto che parla bene l'italiano io sono d'accordo quello italiano comunque però in generale boh stare a dire che lui sa qual è il senso della vita impara l'italiano vai a scuola lavora e poi torniamo a parlare e poi c'è l'applauso ovviamente 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 ma cosa è classista? ma state sempre a frignare a frignare ma poi perché plurale state sempre a frignare voi voi chi ma voi chi ma è grave sta cosa state sempre a frignare voi n cioè mi sembra questa l'associazione terribile noi non siamo più abituati a guardare la tv esatto io non la guardo da una cifra io veramente ci rimango ma infatti mi sa che la signorina adesso parte in quarta non vorrei dire dovrebbe tornare dovrebbe tornare Brambilla è veramente è veramente spettacolo è veramente classista questa cosa ma cosa è classista? passate sempre a frignare scusa ma cosa pensate? tu si non lavorano ma secondo voi gli altri non lavorano se la sente sucata anche quando dice fermi mamma mia ragazzi che vergogna che schifo io tre anni fa tre quattro anni fa ero da da miei amici a Messina e c'era una signora la madre di un mio amico che è una è una creatura dolcissima cioè le voglio tantissimo bene è schierata con Salvini e mi rendevo conto dalla sua attività social dal suo modo di fare che più che un'ideologia politica lei stesse in un certo senso stando a casa abbia trovato una cosa con cui sentirsi parte di qualcosa di più grande scrivendo su facebook quella cazzata là una community esatto a me sembra che questi applausi insensati facciano parte di una community di persone che ha smesso di studiare smesso di sperare e che adesso abbia soltanto bisogno di convogliare delle energie per spararle su delle persone che culturalmente qui non hanno mai avuto difesa è terribile cioè questa cosa è indiretta è una televisione perché non c'è il focus nel migliorare le cose c'è solo nel rompere il cazzo nel criticare nel sminuire impara l'italiano quello gli ha detto dovresti trattarlo meglio lo stai umiliando davanti a tutti e lui gli ha risposto ma impara l'italiano e quello è il conduttore ma come può essere possibile una cosa del genere è successo proprio un po' d'anni fa non penso che imparare l'italiano possa permettere a Donalì di smetterla di andare in giro a fare cretinate non credo sia quella la soluzione effettivamente l'italiano e altre cose di cultura danno il senso della vita secondo me non c'entra proprio niente il discorso della lingua e altro ok ma adesso dire un italiano kill io penso che è importante la lingua la lingua importante avete ragione ragazzi nel senso che non hanno parlato minimamente di quello che ha fatto effettivamente era un blasting adesso sta questo il token blastiamolo tutti insieme prendiamo la forconate hanno parlato dello stereotipo che hanno voluto far passare semplicemente comunque era finita quella clip però qui c'è un altro pezzettino su una clip integrale io sono curioso credo sia finito comunque l'intervento voglio sentire voglio sentire il dibattito tra i due perché non conosci la lingua il suo paese hanno dato io credo che dopo questi tu non sei obbligato a vivere ma allora che cazzo di clip hanno messo c'è altro c'è altro voi come pretendete che una persona cambia non è per niente grave io mi viene ma che scusi ma che lei ma lei è anche ma hanno messo scusate la brambilla ok qua era un po' sbaglio dopo la brambilla se il sistema immigrati fuori controllo non vogliono integrarsi ma non è più un immigrato Cristo ma dopo 19 anni smetti di essere immigrato no non esiste ma poi che dicono che per colpa di queste politiche questi immigrati odiano l'Italia non si integrano cioè è un classico giovane lui non è che fa ma si raga ma è pieno i romani i milanesi i napoletani i baresi che fanno le stesse cose semplicemente lui si filma sui social e quindi ha tutto quanto un altro aspetto particolare semplicemente ma tra l'altro questa cosa l'avevamo pure detta adesso mi ricordo l'avevamo detto perché Salvini non prende il profilo di Don Ali si si che ha i post preparati per i prossimi quattro anni di campagna elettorale e l'ha fatto una trasmissione per lui ma me lo fa lui è proprio il prossimo passo probabilmente è la base la base grazie per i sabbure stiamo aspettando tu non sei obbligato a vivere nella nostra Italia no tu sei rivendichi con orgoglio i tuoi natà ma dove torna il Marocco che aveva un anno in Italia magari non c'ha nessuno le cazzate la nostra cultura però per rispettarla la devi conoscere e tu non la conosci perché non parli nemmeno l'italiano dopo tutti questi anni che sei nato mi ha detto mi ha detto mi ha detto dieci no prego Mariema Fai io sono qua signora un attimo un attimo un attimo un attimo se io sono in per i miei tagli poi volevo fare una domanda però era stata tagliata un attimo Mariema Fai intanto probabilmente se questo ragazzo parla a mare di italiano il problema è collettivo e non è solo del singolo perché veniamo da un sacco di anni in cui alla scuola sono stati fatti tantissimi tagli poi volevo fare una domanda io sono italiana e però non sono non mi hanno dato il questionario dell'integrazione da compilare quindi ancora non so effettivamente perché parliamo sempre della cittadinanza italiana come una medaglietta cioè corri per noi all'olimpiadi ti meriti la cittadinanza italiana fai uno sbaglio non te la meriti più torna al tuo paese questo ragazzo è stato 19 anni in Italia qual è il suo paese se non l'Italia brava madonna santa cosa di una banalità e di un'ovvietà assurda che sembrano in questo momento mi dotti a fare un applauso una frase ovvia e compensare gli applausi sulle cazzate altrui un'altra cosa che noi abbiamo parlato della cultura i nostri valori il suo paese è un altro perché non conosce la lingua il suo paese è evidentemente un altro perché questo ragazzo non conosce la lingua perché probabilmente quando si rivolge a noi dice voi italiani vi viene in una zona ghiettizzata vi viene in una zona ghiettizzata e noi abbiamo l'esperienza è troppo facile giocare alla caccia al mostro per sbatterlo in una pagina brava comunque allora ok utilizziamo questo metodo di selezione sull'italianità secondo me un buon 35% di ragazzi ma anche di adulti in realtà secondo questa logica non dovrebbero essere italiani perché non parlano ben italiano è vero eh certo anche di più ci ridividiamo anche di più del 35% sono stato buono sono molto buono l'80% dai prima posso finire il 10 secondi ci sono un sacco di italiani come lui sai qual è il problema che piagnucolate troppo e dovreste piagnucolate ma ha detto che è italiana ma chi ma piagnucolate chi e poi lei appunto movimento migranti e rifugiati Napoli cioè piagnucolare significa occuparsi di persone in difficoltà e fare le loro veci dicendo le cose che non vanno bene è stata lamentare no ci sono dei problemi persone che soffrono dovreste ringraziare di essere qui che facciamo fare i braccianti questa è apologia celata sì sì apologia celata la verità va bene è impossibile ci sono un sacco di italiani come lui ci sono un sacco di italiani sai qual è il problema piagnucolate troppo e dovreste no perché piagnucolate troppo e dovreste sì ma io sono certo che la maggioranza del pubblico di questa trasmissione avrà goduto guardate quello dietro di lei con la mascherina il problema me lo piagnucolate troppo e dovreste no perché piagnucolate troppo oh madonna porca miseria non ho mai annuito così vuoi scoparti tua lipa forse in quel caso giusto in quel caso mi date la parola grazie ma come stavo a parlare quella è tazzittata dovrà dire una cosa intelligentissima lei sembrava dire ragazzi silenzio facciamola finire invece no fatemi parlarmi ok il servizio di leva obbligatorio questi ragazzi vadano a fare facciate facciate rimortaccio ma che davvero questa invece era stata candidata ricordatemi un po' eh l'ho già vista però io ho ricordi sempre di forza italia ma non voglio sbagliare o lega non credo lega lega a pretà no vabbè della lega ok secondo luogo non posso stai in forza italia mi ricordavo bene sono tutti così comunque super liberali a forza italia ci sta anche fare una trasmissione diciamo per là alla destra per carità ci sta almeno facessero parlare però anche l'altra parte sì ma è preoccupante questa ci ha approvato dieci secondi netti stoppata sì ma è preoccupante quanto a destra però è quella la cosa ma per me ci può pure stare politicamente schierata come era politicamente schierato Santoro sì sì Michele non tuo padre però comunque sono messi lì apposta per essere zittiti perché a me mi sembra che pure numericamente siano di più ma sono proprio due di destra insomma numericamente secondo me però a livello di minutaggio che hanno anche sì sì lo spazio che gli danno giustificazionista giustificazionista assolutamente non lo sto giustificando non l'ho interrotta mi deve dire che diritti negati hanno nel nostro paese questi ragazzi questi ragazzi hanno il diritto alla salute inutile che rida che siano regolari irregolari che i genitori siano regolari io non l'ho interrotta non l'ho interrotta non l'ho interrotta non l'ho interrotta io non sono riuscita a dire due parole hanno il diritto se non hanno il documento hanno il diritto se vanno in qualunque pronto soccorso documento assolutamente no è evidente che lei non sa di che cosa parla è evidente che lei hanno il diritto all'istruzione che siano regolari irregolari che siano addirittura come no che siano curati ma vengono denunciati poi se non c'è il documento ovviamente se tu non c'è il permesso di soggiorno e sei ferito gravemente vai all'ospedale ti curano però hanno messo una legge che i dottori sono obbligati a chiamare i carabinieri se non c'è il documento e poi fatti arrestare è un discorso è un discorso diverso è un discorso a parte si oltretutto non c'entra niente con la situazione di Donnalì niente si nulla parliamo un attimo parliamo un attimo di questa cosa del documento come funziona uno arriva qua e clandestino non ha il documento no ma lui è nato in Italia in teoria tu diventi italiano dopo i 18 anni poi oltretutto ora stanno a parlare di un'ipotesi di un clandestino che va al pronto soccorso non ha il documento viene denunciato quindi che deve fare deve fare il documento si che poi non c'entrava nulla con questo no no che deve fare il documento in teoria viene messo in lista per il rimpatrio un tempo venivi rinchiuso per ogni città c'era qua a Roma c'era Ponte Galeria che era un centro d'accoglienza ma l'hanno chiuso che l'hanno chiuso si perché comunque era un po' tremendo era tremendissimo e erano per il rimpatrio ma sinceramente è rimasta la legge che sei costretto a denunciarli ma non so bene ehi grazie 25 bombe ma lei è completamente pazzo cazzo dice mi spiego meglio mi spiego meglio noi tutti dobbiamo avere un documento quando giriamo per strada se no è illegale un clandestino che non ha i documenti perché non li fa ci sono dei problemi che non conosco cioè perché è impossibilitato nel ottenere un documento perché se sei clandestino teoricamente non ne avresti diritto se vieni in Italia pure se t'è scaduto il permesso diamo i documenti ai clandestini ma perché dobbiamo andare in pezzo dei carti perché dobbiamo farli vivere nella paura è questo che dico io perché se no ci sarebbe un'immigrazione incontrollata quello è il problema non può richiedere asilo un clandestino per guerra sì o per motivi umanitari sì dobbiamo aiutarli però in quel caso hai il permesso era massimo sette anni fa e ci lavoravo quindi non so se è cambiato parli di quindici anni fa al massimo io era sette anni fa e ci lavoravo era così otto come è stata la tua esperienza come si interfacciava no non lavoravo a Ponte Galeria però sapevo che molti ospiti mi è capitato che gli erano scaduti i documenti per problemi pure burocratici gli erano scaduti il permesso di soggiorno e c'avevi paura se stavi male andare all'ospedale che ne so perché dici c'ho paura che se vado lì mi creano problemi mi rimandano a Ponte Galeria e poi riesco magari ottenere pure il permesso di soggiorno però un mese lo faccio lì si devi attendere il rinnovo magari per problemi burocratici ma non ce l'hai però qua si parla di una persona che proprio non l'ha mai avuto che è venuto in Italia non per problemi legati alla guerra diciamo che la situazione è più estrema ma ci stanno pure tanti casi di chi ci si ritrova per problemi burocratici ecco la cosa che a me fa un po' spavento è che si è capito dopo tre secondi l'intento della trasmissione perché hanno mostrato le clip di sto ragazzo che il pubblico medio non conosce un marocchino a caso un n a caso che fa cacciara non sa parlare italiano in realtà si però ok e dovrebbe tornare al suo paese o dovrebbe fare la leva militare e adesso stanno parlando di quelli che arrivano con l'immigrazione clandestina in Italia non c'entra nulla col suo caso no ma perché lui serve da capro espiatorio esatto è un token vero e proprio capito certo comunque io prima stavo ponendo domande proprio perché sono ignorante sull'argomento non è che mi dite dubbi non sai nulla ovvio ho detto non so nulla sto chiedendo proprio vorrei aiutarli cioè vorrei fare qualcosa hai anche proposto più che affermato qualcosa che esiste sì cioè perché non si può dare una carta cioè perché non perché non se può sono clandestini per motivi numerici per motivi numerici se no avalli la cosa che è normale è sbarcare e rimedi subito un documento quello sì però da un estremo all'altro non curare una persona è diverso cioè perché uno poi ha paura però non è mai successo ovviamente no ti curano però il fatto è che tu ovviamente hai paura di andarci e quindi poi non te curano perché diciamo diventano deterrente alle cure perché te ovviamente dici vabbè non ce vado pure se sto male magari te aggravi sopra non mi parlate sopra sono un sogno perdoni il sogno si lega alla nostra Costituzione perché non la conosce neanche lei e mi sa che pure lei la vaffanculo se si permette sono un legislatore le leggi le conosco toglietemi questa mi taglietta che mi avete donato che tra l'altro arrivo un attimo mi aspettavo per esempio da migliore che chiedesse scusa che chiedesse scusa per due motivi il primo perché non è vero che i flussi migratori scusi non sono legati non sono legati a questi fenomeni il suo ministro della lega fate finire però fatemi finire sa perché sono legati non c'è problema dopo sentiamo sa perché sono legati a proposito del mio ministro magari ritornate Salvini magari ritornate Salvini sarà perché sono ma la gente con Salvini moriva ma magari Salvini con cui comunque si capisce un cazzo si capisce un cazzo la gente moriva con cui ministro degli interni Salvini sbarchi 8691 con il premier Renzi mi rivolgo a migliore 2015 2016 175 mila nel 2015 150 mila immigrati nel 2016 questa è la piccola differenza che Salvini aveva diminuito del 70 ma ti sbagli perché immigrati sono 5 milioni 5 milioni di stranieri però fatelo un attimo 5 milioni 5 milioni però abbiate capisco che è difficile se tu mi controlli solamente quelli che sono arrivati con il balcone non capisci che quelli che sono aumentati sono di più mi sono ascoltata tutta la tua filippica può sforcare 5 minuti mi aspettavo mi aspettavo che tu chiedessi scusa uno perché questi ragazzi proprio frutto di questa politica dei porti aperti della vostra idea non c'è senso farla continuata di mille menzogne la politica dei porti aperti è nata in Italia 19 anni fa può essere colpa sua che è stata in politica 4 anni fa si sta lamentando di essere sempre interrotta ma è quella che ha parlato di più si si e poi è interrotto tutti prima ma oltretutto non c'è senso sta strumentalizzando Donalive è colpa di questi ragazzi è nato in Italia 19 anni fa è grottesco scusi poi i genitori di questi ragazzi il ben Godi non l'han trovato perché non c'era allora lui è stato è stato anche nel PD era sinistra ecologia e libertà partito misto partito misto partito democratico partito democratico e poi Renzi sinistroide si non è nato in Italia ragazzi scusate però 19 anni fa non c'entra niente con le politiche migratorie dei 4 anni fa ma sta una fan confuso ma avete capito questo ragazzo un po' stupidotto diciamo così è una persona che non sa neanche che sta qui da 17 anni quali poti avere è inutile che vi parli sopra cerchiamo di tenere dibattito alto delle seconde generazioni che avendo visto che non era il paese del ben Godi per i genitori è un cretino perché è un cretino uno che si esprime così ed è giusto che venga condannato un odio verso questa società e la seconda un odio verso questa società la seconda cosa di cui dovresti scusarti che è 20 anni che ti occupi di questi temi sei stato presidente di una commissione che si occupava di questi temi dovresti chiedere scusa agli italiani per il fallimento di queste politiche di finta integrazione che la sinistra porta del nostro paese un attimo un attimo Karima mua ha fatto una figura incredibilmente positiva Don Ali rispetto a questo gallinaio è un pollaio sì alla fine rimani educato e fai bella figura poi è diventato un attacco personale a questo e in generale alla sinistra vabbè e poi comunque è diventata una cosa politica poi ti dovresti vergognare tu che hai fatto hanno strumentalizzato tutti gli italiani c'è sempre italiani nazione casa c'è sempre la stessa diridera sempre le stesse parole chiavi sempre lo stesso campo semantico è un disco rotto incredibile che non riusciamo ad andare fuori dalla nostra cultura la storia si ricrea ovviamente non si può presentare alla stessa maniera fortunatamente si è un pochino migliorati civilmente ma è sempre la stessa cultura io a Milano sono stato derubato da dei ragazzi milanesi o almeno hanno provato a derubarmi mi sono trovato la loro mano nella tasca e poi ovviamente manca a dire all'altro perché mi avrebbero menato mi hanno detto che è nella cultura di vari quartieri milanesi fare così che questi ragazzi hanno imparato da qualcun altro a far così adesso dicono che se avesse avuto la cultura italiana questo ragazzo non avrebbe fatto quello che ha fatto io sono stato derubato da dei ragazzi milanesi che hanno imparato nel loro quartiere milanese a rubare in un determinato modo e c'erano quasi riusciti cosa cazzo c'entra l'Italia cosa cazzo c'entra il Marocco se non avessero mai rubato in Italia nessuno capito capito ma infatti la cultura della mafia è nata in Marocco gliel'avranno segnato qualche immigrato comunque ovvio i mafiosi in Italia come dici te adesso no in Marocco è nata la mafia eh no me sa de no me sa de no 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 ma tu che ne sai della mafia è vero è vero che ne so io impara un'altra cultura poi ancora migliore a me a me prego veramente mi fa un po' schifo posso dire usare questo termine dipende il modo in cui io e la ragazza siamo qui è come se voi siete gli italiani e noi siamo facciamo parte di un'altra mondo è vero siete due token purtroppo prego Donalì noi siamo italiani questo gioio no no perché tutti nessuno ha dato questa modalità ma lei l'ha appena detto a me no no non gliela fanno ma cosa non gliela fanno non riesce a finire la frase ho detto che non conosce le nostre leggi perché se uno non sa che il diritto allo studio nel nostro paese garantisce state zitte o vi tolgo i microfoni la dici un attimo la decisione è questa o state zitte mentre parla una persona o io tolgo via i microfoni decidete voi è una figura brutta perché sembrate il pesce nell'acquaio o nell'acquario che diventa una cosa spiacevole premesso che anche a noi ci preoccupa e fa schifo quello che è successo premesso che questo ragazzo che abbiamo sentito poc'anzi veramente non lo so uno che sta da 17 anni che non conosce le leggi che se in Marocco avesse fatto una cosa del genere altro che 4 anni magari gli avrebbero dato 10 quindi dovrebbe chiedere solo scusa quindi dovremmo essere d'accordo qui a me la cosa che mi preoccupa è la modalità con la quale state portando avanti questo dibattito mettendo noi da questa parte come se fossimo non lo so come se giustificassimo questi atti osceni che ci preoccupano anche noi e che stiamo solamente cercando di analizzare e di capire come mai abbiamo ripeto una parte delle seconde generazioni che è nata e cresciuta in Italia che si comporta in un certo modo non stiamo parlando di gente che arriva sui barconi vi voglio informare che gli immigrati in Italia che sono 5 milioni sono persone che sono arrivati con un visto sono persone che lavorano sono persone che studiano non è che sono tutti irrappresentabili come quelli che arrivano rubano spacciano eccetera non fate altro che fare questa narrazione e infatti è paresemente questo il problema in senso blastare Donali è il minimo però come ha detto è preoccupante la direzione della trasmissione è una cosa che veramente si è intuito nei primi 3 secondi assurdo veramente la propaganda ridicola e infatti l'orrore che abbiamo visto nel Garda è proprio la rappresentazione di 15-20 anni di una narrativa tossica voi state facendo credere a questi ragazzi che saranno degli immigrati per sempre e non potranno mai essere italiani la colpe della narrativa è importante scusi prendo molto sul serio intanto il problema non è che voi siete di un colore diverso o di un'etnia diversa grazie grazie per il riconoscimento il problema è che siete di sinistra semmai ma chi l'è ha detto sigma moment il rai è gravissima è cazzata il problema è che non la pensate come noi questo è il problema fosse per me voi non esistireste la verità comunque è un giornale satirico bellissimo ragazzi ve lo consiglio la verità libero e qual era quell'altro il giornale tre giornali satirici uno più divertente dell'altro ma chi ma chi quindi il problema per me mi scusi mi lascia sa quando vado a votare che cosa voto no mi basta sentirla mi basta sentirla mi ha detto pirla ma davvero mi basta sentirla pirla marra sei troppo schierato beh ragazzi veramente quei giornali sono carta straccia muo' direte tutto schierato cosa voto no mi basta sentirla mi basta l'ha detto 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 secondo me no mi basta sentirla mi basta infatti mi sa sì però lasciamo il dubbio pirlo 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 ho detto pirlo pirlo mi lasci che vanno fatte a destra come a sinistra mi lascia finire che vanno fatte alla politica a destra come a sinistra lasciate finire ma a destra gli urli di del debito sono divertentissimi questo va detto oltre alla cracco il problema per me mi scusi sa quando vado a votare che cosa voto mi basta sentirla mi basta facciamo un patto mi lascio finire alla politica a destra come a sinistra mi lascio finire mi lascio finire e poi mi insulti no non insulto io ti dico questo perché ripeti lei insulta lui e che hanno portato a queste situazioni è evidente che non tutti gli stranieri che sono in Italia sono criminali anzi la grandissima parte degli stranieri che sono in Italia sono brave persone che lavorano c'è un problema, uno, di sbarchi che aumentano la criminalità aumentano il disagio sociale e inaspriscono le tensioni sociali soprattutto nei quartieri più disagiati poi c'è un problema con le seconde generazioni che riguarda in parte anche gli italiani perché ci sono anche italiani tuoi concittadini scusa è un problema anche tuo ascolta persino quando ti ho ragione che riguarda anche i ragazzi italiani figli di italiani da tre generazioni ed è peggiore in questi casi perché oltre a tutte le minchiate che vedono su quei social in cui pensano di essere un gangster come quel signore lì che si togliesse i guanti e andasse a lavorare no questo dovrebbe fare ma non stanno in palestra mi sembra una palestra dietro vedo le corde ce l'hanno con sti guanti perché? perché poi sono bendaggi ma sì infatti vabbè di pensare a queste scemenze e di avere sempre il piagnisteo vuole dimostrare che qualcuno lo dimostra si trovi un lavoro e lo dimostra invece di piagnucolare riguardano anche i tanti ragazzi italiani loro in più hanno un'altra cosa che non si sentono in casa loro perché pensano che questa nazione sia loro nemica ed è colpa è colpa di 20 anni come fanno a non percepire la propria nazione come nemica se la maggior parte dei politici che dovrebbero rappresentare i cittadini li trattano come merda? ma li usano per ogni colpa boh effettivamente ma poi c'è il caprio espiatorio per ogni problema cioè non ci stanno soldi non ci stanno lavori è colpa degli immigrati è colpa degli immigrati cioè è facile c'hai un nemico e con questo mica si giustifica spaccare tutto non è che se io non mi sento a casa mia in un posto allora inizio a spaccare le cose ovviamente però è un problema che io non mi sento a casa mia pure i giovani non si sentono non apprezzano sta nazione parlamose chiaro infatti non guardano la televisione io anche non apprezzo questa nazione quando guarda la televisione mi arriva la notifica da parte del commercialista sulle tasse che vanno pagate però non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono i politiche che hanno distrutto questa nazione bravo che c'è Lorenzo che c'è vedo un po' di regoscismo che c'è che c'è che c'è che vuol dire quello che vuol dire che vuol dire dica dica Zaccaria Zaccaria lì non vuol dire non vuol dire con una cappa secondo me eh signor giornalista volevo rispondere al signor Borgonovo prego volevo rispondere al signor Borgonovo dicendo che non mi sembra una cosa molto elegante sminuire una persona nel modo in cui parla lei è una persona molto più grande dovrebbe dare un esempio di educazione e rispetto no dovrei dirgli che deve imparare l'italiano sembra proprio una cosa poco elegante proprio essendo più grande mi permetto di dire a un ragazzino mi permetto di dire a un ragazzino che deve imparare l'italiano prima di frignare come ha fatto come un mezzuomo questo ha fatto visto che è venuto a fare il gangster a dire che lui sa qual è il senso della vita impara l'italiano vai a scuola lavora e poi torniamo a parlare è veramente è veramente pomorra è veramente classista questa cosa ma cosa è classista ma state sempre a frignare a frignare ma dove sta ma cosa pensate non lavorano ma secondo voi gli altri non lavorano non ci sono delle persone che guadagnano mille euro al mese e non frignano come questo qua invece di difenderlo invece di difendere quindi che ti fa fare una brutta figura ma che lo fa fare a me ma qual è il mio schieramento io non ti ho politico non sei il partito degli immigrati cos'è che ha detto io sono il partito di migranti voglio metto migranti eh allora il tuo schieramento visto che rappresenti un migrante no ha detto che è qui da 19 anni quindi da 19 anni quindi non è un italiano e quindi ha bisogno della scuola di manza per essere italiano ma stiamo parlando dice che è marocchino quindi pura presenti lui digli che ti fa fare brutta figura ti fa fare brutta figura ma non la fa fare che stronzata pure questa che stronzata cosa cazzo c'entra cioè lei fa un lavoro e deve per forza prendersi le colpe degli atti criminosi di Dona Lee che sta in Italia da 19 anni hanno la mente a alveare gli immigrati si va messa nel calderone quindi prenditi le sue colpe e chiedi scusa in quanto persona di sinistra e in quanto persona che si interessa dei diritti degli immigrati quindi terribile ma pure al rattro del PD hanno detto chiedi scusa chiedi scusa è colpa tua e lui neanche ha potuto rispondere cioè non ha risposto quindi anche noi dovremmo rispondere per ciò che ha fatto Dona Lee perché è anche italiano sì anche in parte italiano i torinesi dovranno rispondere per gli atti di Dona Lee oppure andiamo in uno studio tedesco dove diciamo che la cultura italiana è così da noi che fa questo danno scusateci purtroppo gli italiani si mettono le cravate prima di imparare l'educazione la fa fare pure a te certo infatti mi dico che è un coglione infatti mi dico che è un coglione perché mi fa fare un coglione perché tu pensi che sono tutti che parlano bene l'italiano ma per piacere ci sono italiani che non sanno parlare l'italiano infatti dovresti imparare non è vero non lo parla benissimo ma non è vero ma perché un sacco di italiani non lo fanno un sacco di italiani ma infine che sei tutto lì liberato io sono per me è un razzista è una bensiera regata che è un razzista oh questa trasmissione è carriata unicamente dalle urlati del debbio cioè oh un po' sbiascicante fa troppo ridere fa davvero che sta a portare le pecore se pure tu fa così l'osteria e io spero che il giudice dia l'aggravante dell'odio raziale e io spero che siate zitte prima che vi butto fuori rambilla permettetemi però scusate non credo che questo sia l'approccio giusto un approccio ideologico urlato strillato in questo modo c'è un tema da una parte di disagio giovanile migliore DJ ci sono le baby gang un braccio calma solito vizietto quella molletta sul govido attenzione Napoli io per 5 anni sono stata presidente della bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza so bene che sono le baby gang purtroppo negli anni sono peggiorate molte sono oggi costituite come in questo caso da nordafricani piuttosto che quindi da scusami Laura scusami Laura scusami Laura scusami 5 milioni scusami Laura vabbè allora se mi lasci parlare grazie per la ravetta approfondire significa giustificare no ma non è disagio no ma non è disagio no per me è semplice allora per me è fare violenza su delle regali per me non c'è il disagio giovanile che possa giustificare violenza su delle politici italiani ragazzi è assurdo comunque io non vedo una trasmissione da tanto una trasmissione diciamo di stampo politico da tanto commedia dell'arte sembra donna mia incredibile cioè non c'è stato un dibattito parla questo tre minuti parla quest'altro uno su quattordici interventi e basta mamma mia lasciate parlare non mi volevo la vista e stai zitta un secondo lasciami spiegare il disagio giovanile che attraversa le baby gang di qualunque nazionalità sia è un tema reale perché la nostra società comunque per ragioni varie e complesse non riesce in tanti casi a dare modelli positivi ai giovani per cui noi su questo dobbiamo lavorare questo è un argomento un altro argomento è quello del razzismo al contrario perché naturalmente dire qui non salgono alle bianche non è passibile non è compatibile cioè qualunque forma di razzismo e di sessismo questo è vero va cancellata come permettetemi di dire ma Laura stai zitta un attimo ma stai zitta un attimo dai ma per favore ma appunto a educazione lasciar finire il fatto che già il razzismo al contrario non ha senso è il razzismo anche quello le donne bianche non possono salire che era i fatti che avevamo visto brevemente l'altro giorno se vi ricordate che era peschiera sì c'è una guarda quella cosa lì è razzismo punto razzismo al contrario lì è tensione sociale nulla razzismo è razzismo razzismo al contrario perché secondo qualcuno è divisione dei popoli non è neanche una questione di razza è proprio gente che si odia capito è razzismo l'odio di vero il colore della pelle tensione sociale sì vabbè sì sì ma al contrario perché dice so al contrario perché storicamente il razzismo è stato sempre verso quelli con la pelle meno chiara però adesso si stanno ribellando è come una vendetta ma che ovviamente non ha senso non può dire nulla a parte che in Sudafrica sono decenni che esistono dinamiche di bianchi di neri contro bianchi se vogliamo buttarla a questo punto ma non vuol dire un cazzo proprio con l'espressione prego quello che voglio dire prego ma grazie però lasciate finire oh mamma mia oh è difficile ma perché ok grazie però lasciami finire di dire lasciami finire di dire ma perché mi metto a affrontare sti temi con questo pollaio cioè sembra tipo il CEO che conduce la trasmissione politica è bellissimo tutto che non gliene frega un cazzo proprio tutto shamper in realtà lui si lamenta ma è proprio la linea scelta precisa di questo programma sono tutte così le abbiamo viste anche diverse le puntate di questo pollaio ok grazie però lasciami finire di dire lasciami finire di dire anche una cosa che quelli che sono i meccanismi dico no io non so i meccanismi ribadisce pollaio dopo anni di apartheid ovviamente sì sì però dico che già esiste da tempo è razzismo e basta lo devono essere portati avanti nello stesso modo perché anche lì tutta questa gente alla stazione tutti sul treno le ragazze chiedono aiuto cioè ci vuole un sistema di tutela e più complesso per tutti ma questo non ha nulla a che vedere del debito e concludo con il fatto che non è che noi stiamo dicendo lo dico a voi perché pensate fate questa contrapposizione non è che noi stiamo dicendo questa cosa che è successa perché sono immigrati piuttosto stiamo parlando di integrazione integrazione che non esiste perché non è che stiamo dicendo dovrebbe tornare il ma stiamo parlando di integrazione perfetto perfetto timing perfetto e non si vogliono integrare questo branco di Zezenzano rivendicava la propria identità ma basta con questo approccio ideologico perché non risolviamo faccio da loro faccio ho finito il tempo sì l'approccio ideologico ho finito il tempo mamma mia mamma mia ma io guarda ma guarda io non ho nulla vi fa oh basta allora vi faccio la fate finita o no? ma dei leghisti stanno continuando senza microfono sì 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 la fate finita o no? ma scusate un attimo 5 milioni vabbè non c'è tempo per la sua clip sugli animali mi dispiace no la clip sugli animali gliel'ha tagliata la clip sugli animali no ce l'ha punita la punita l'ha punita perché lei è super animalista attivista la brambilla niente più la clip sugli animali mi ricordo che ha fatto dei video divertentissimi con Berlusconi mo li vediamo quindi fa anche cose buone sì sì vabbè diritti degli animali quattro coccodrilli per una borsa eccetera però mi ricordo delle clip con Berlusconi mo le cerchiamo mi sto chiedendo in questo momento ma esisterà un cazzo di best of di Del Debbio ma sì se non esiste faccio un appello a tutti i montatori del Cerbero vi prego vi prego tutti perché ce ne sono alcuni incredibili alcuni sono fantastici volevo dare la sua clip sugli animali animali bastardi a dove trovarli grande Vagino che l'ha detta proprio con una cattiveria io sono venuto da qua solo per quello praticamente sì cattivissimo non vedo l'ora di mostrarvi la clip cattivissimo non c'è tempo per la sua clip sugli animali guarda là devo chiudere il sorrisetto padre padrone no già scazzatine della straga ma guarda se metti proprio spezzoni brevissimi un po' modificati secondo me se gli zoom solo la faccia che magari lo seguino tipo così ti prego pubblicità appello appello a cosa dice pgn un best off di del debito ma cerchiamolo vediamo se c'è non credo purtroppo comunque 20 minuti di leghisti che si lamentano di assenza di integrazione è strano proprio cioè io che lavoravo in un centro di accoglienza Sprar che comunque serviva per fare integrazione sono tutti stati chiusi sono tutti stati chiusi quando era andata al potere la lega quindi poi e molti centri hanno praticamente lasciato la gente per strada e ovviamente zero integrazione perché c'era centro di accoglienza e loro magari giravano per tiburtina buttati per strada questo scontro tra del debito e Maiorino aspetta forse questo l'ho visto io volevo fare pure un appello se riuscite a trovare la clip sugli animali della signora se è stata invitata in qualche altro studio a me farebbe piacere comunque dare il mio supporto giusto diamo un piccolo spazio per questa clip mi sembra giusto qua non è ancora chat debito questo lo vedo lei che fa tutti insieme no 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 Maiorino no 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 un pochino diciamo che un po' no Maiorino se non vuol venire qui non ci viene un po' di no 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 un pochino questi discorsi li fa a casa sua un po' di suono un po' se no non ci viene un po' di suono se no non ci viene se no non ci viene ha capito ha capito non mi intimorisce se fa così ha capito guardi che non mi intimorisce no neanche lei me ma non voglio se vuole andare se ne va non voglio intimorire non è che fa le lecce non voglio intimorirla occhio occhio del debito non la voglio non la voglio non la voglio intimorire a casa mia no non la voglio intimorire è lui ragazzo è lui e il pubblico sta zitto quando parlo io capito se no invece di andare via Maiorino andate via voi non la voglio posso del debito non la voglio intimorire lei non cerca di intimorire me perché non è io non intimorisco dico se vuole venire qui ci viene ma però posso guardi che sono libero anche se vengo qui di esprimere le mie opinioni sì ma non dire falsità perché se no non dire falsità se no me lo dice lei non dire falsità mi vuol dire anche cosa devo dire no su di me sì ma le dico quello che penso e pensa sbagliato a me interessa venire in questa trasmissione sa perché sa perché perché parlo a persone che non la pensano eh bravo Maiorino bravo però lei ha fatto un'analisi sociologica sull'ispettatore di questa trasmissione è più informato di noi no no sa tutto lui sa tutto lui che sono molti di quelli che la guardano a casa è un vizietto che sono molti di quelli che la guardano a casa e sinceramente potete continuare ad applaudire se ben ricordo la direzione della trasmissione perché del debio fosse diciamo spostato a destra ma come gli viene in mente sta cosa io sono convinto del fatto che sia utile andare anche in contesti bene bene in cui ci si confronta con punti di vista venga anche nella fogna Maiorino con cui non si è no non ho detto ma va bene non me ne fotte niente ho capito del debio però mi faccia 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 pure posso? dica il nero ora no perché deve finire di parlare Maiorino poi dopo do il nero è chiaro regia? bene c'era pure uno con scecchi paura è vero ah eccolo questo me lo ricordo però comedia posso dire posso dire Paolo Paolo posso dire si arrivo arrivo un attimo devo chiarire Paolo solo per replica un attimo arrivo 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 Riccio io capisco quando c'è pochezza di contenuti a noi di destra noi abbiamo combattuto e sconfitto il fascismo il fascismo e il comunismo quindi nessuna pochezza per voi ha fatto un partito quando è uscito dalla Forza Italia era il partito della fiamma è vero o no? no la destra è vero o no? ma che non c'entra nulla dica dica lascia i pedo Paolo Paolo si Rizzo arrivo siamo liberi perché non ci sono più fascisti e comunisti sta buono sta buono su sto buono un cazzo e poi ma non è fascista lei ma non è fascista lei ma che fai come Gart Lerner che fai lì sei proscrizione dai ho detto che non si può ho capito ma non è fascista lei non me lo dici ha fondato il partito ma che ha fondato ma non ne sai un cazzo ma sta buono non lo ascolti non lo ascolti è fuori di melona non lo ascolti dica ma cosa c'entra non è fascista è fascista fondato il partito ma non è fiamma di colore vabbè allora tu sei un pirla io sono un liberale oh ecco sono un liberale pirla orgoglioso ma che cazzo dai dai se vincevano loro dai Alessandro smettila pianta Luciani team leggeresse sedaglia si si ma si vede e poi spesso andava ospite adesso non lo so levate lì Crooks stava pensando avanti tutta con il content per domani per la zonzara esattamente come noi quando succede qualcosa su twitch sicuro top content diventi tu allora ma io questo come ti butto fuori la trasmissione doppiamente nazista dai va te ne va perfetto ciao se ne va doppiamente nazista nazista hai detto doppiamente nazista mi pare si 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 come ti butto fuori la trasmissione doppiamente nazista dai va perfetto ciao state attenti tutti voi sarete perseguitati esci a me fascista e comunisti vai 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 vabbè ma l'ha detto 60 volte non l'hai sentito prima amore l'ha detto perseguito o perseguitati perseguitati non ha senso vai 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 l'Europa è la nostra garantia si 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 ricordatevi l'Europa è la nostra mamma mia ricordatevi oh mamma mia ricordatevi mamma mia siediti perché no no tu siediti Alessandro dai fascisti e comunisti hanno degustato il mondo fascisti e comunisti va bene che lui è liberale capito è la mativa è anche vero giusto oltre l'estremismo gli estremismi però segui i matti con la bibbia e moriremo tutti domani arriverà l'avocalisse sette lame ci e ci terranno si si arriva il professor e ci ci si dai senza Europa siete senza Europa siete tutti in galera siete Europa siete poveri si va bene mi scuso mi scuso col pubblico mi scusa perché c'è un antifascista mi scuso top regia comunque è bellissima questa cosa cioè sembra veramente un film non lo so di Scorsese mi scuso col pubblico mi scusa perché c'è un antifascista con lui dietro così bellissimo mi scuso col pubblico mi scusa perché c'è un antifascista mi scuso perché c'è un antifascista in studio è bellissima top regia complimenti al regista è l'operatore si scusa ascolta ascolta no tu mi hai dato la pirla perché sono liberale no e non ti puoi permettere no è registrato no hai detto sei un liberale pirla no io sono orvalloso no liberale pirla pirla è bassa no liberale pirla no no pirla è bassa mettiti a sedere ok mettiti a sedere subito ok dimango purtroppo qui un po' acceduto allora qua c'è che poi ne stava a fare il suo momento no così eroico sopra le righe però in realtà non se ne voleva andare veramente infatti appena gli ha detto mettiti a sede ok ok stavo temporeggiando doveva andarsene però non poteva cioè non poteva non fare la scenata nel momento in cui del debito gli ha detto vattene esatto in un modo doveva non abbozzare esatto così l'ho percepito peccato però perché se se ne fosse andato sarebbe stato coerente perché se ne siede regà ok attendeva quello da 100 a 0 comunque sul segreto sì sì credi nella democrazia liberale mettiti a sede ok mettiti a sede vabbè dai la cosa troppo bella ok Paolo posso avere questa replica? mi scuso molto spettacolo ragazzi Paolo posso avere questa replica? no no non c'è tempo di nulla scammato Rizzo Ruciani gliel'ha chiesto mi sa che era Rizzo no pensavo Ruciani per la zanzara proprio posso avere la replica? il VOD vuole no non c'è tempo di nulla molto Paolo posso avere questa replica? no era Rizzo ma replica intesa come posso rispondere ah ok ok non c'è tempo di nulla non c'è più la clip degli animali di Rizzo non si potrà più far vedere ogni fine priva qualcuno di qualcosa se no non è contento molto con il pubblico chi è che ha detto che cacchio vuole ma dai chi è che? uno al caso del pubblico se la sta a prendere con tutti è bellissimo ma è una persona assurda questo video cioè il programma è meraviglioso ma io ve l'ho detto è un contenitore di trash assurdo raga chi è che ha detto che cacchio vuole che è buono un'altra persona del pubblico è bellissima sembra tipo Lundini capito? visto con un occhio diciamo di intrattenimento fa ride ovviamente è preoccupante anche allora vediamo l'ultima cosa poi di Reddit la clip del Berlusconi con Abrambilla comunque il regista sapeva che facesse ridere lo sapeva perché ci sono delle inquadrature che sono chiaramente guarda questo ma sai quanto si stava a tagliare proprio il regista hai capito il regista secondo me è totalmente apartitico ma secondo me era nel panico quando si sono alzati tutti immaginata la situazione e gli sono cambiati tutti i setup però l'ha gestita divinamente sì sì bravo non le sentiamo grazie grazie a Alfredo Macchi dalla parte degli animali la trasmissione di Michela Vittoria Abrambilla in onda su Rete4 torna domani con un ospite speciale Silvio Berlusconi c'è stato un momento in cui abbiamo cercato di non avere cani in casa perché avevamo un bellissimo setter americano di un'intelligenza rara io cantavo e lui ululava mettendo la bocca aperta era una cosa fantastica poi è morto è stato un dolore grandissimo vai sì sapete quanto sono amante degli animali ho 14 gatti ma guardate qui con questa illuminazione è stato un dolore grandissimo guardate che cazzo è il film di Terence Malick vi prego ragazzi bellissimo siamo con una nuova entusiasmante puntata di Dalla parte degli animali con un ospite davvero eccezionale il presidente Silvio Berlusconi Dudu e tutti i tanti Dudu Dudu ma anche lì è carino il presidente il segretario del Stato Maggiore Dudu e tutti i tanti cagnolini e altri animali che vivono ad Arcore esiste questo regno diciamo dei nostri amici sembrava di no top padrino comunque veramente sembra un cane però quasi esiste questo regno diciamo dei nostri amici che ha bisogno di essere tutelato perché soltanto da poco è diventato una presenza in tutte le leggi europee e noi vorremmo che fosse inserito anche nella nostra costituzione l'animale è come essere senziente sabato alle 10.55 su Rete4 e domenica alle ore 14 non perdete questa puntata di Dalla Parte Degli Animali ma per i consensi è geniale ma vede quanto sono buoni quelli di Forza Italia cambiamo la costituzione sarei pure d'accordo magari nelle proposte alla fine è bene il 30% degli italiani hanno un cane in casa facciamo lo spot sui cani ma come fai a dire e de nono sport del genere dice no non so d'accordo con quei cagnolini oddio è morto il cane faticava a prenderne un altro e ne ho presi otto è un agnello così vorrei ricordarvi che da anni mi batto e ci battiamo noi di Forza Italia per difendere gli animali e i loro diritti sono i nostri compagni di viaggio su questo pianeta sono i nostri compagni di vita nelle nostre case non hanno voce ma possono sentire e soffrire come noi e meritano di essere tutelati su questo vantiamo un primato incontestabile in Parlamento ci sono più di 50 proposte hanno pure un primato il nostro presidente ha fatto anche cose buone ragazzi è arrivato il momento più atteso della settimana per tutti i nostri artisti il momento Reddit io ho aperto anche due video a parte uno di Schiga e l'altro di Yomi però credo siano anche su Reddit magari li vediamo qui se non ci sono li vediamo a parte sono Life After Kitano volume 2 quando Simone Santoro rompe la crescita parte 2 cioè tu devi sapere Mario e anche voi mercanti che ci sono tanti artisti che stanno creando delle vere e proprie saghe delle serie tv bellissimo ad episodi ne ho seguito le varie sono veramente fighe vai ragazzi vediamo i più votati della settimana schiga pure per favore non mangio e dormo da una settimana Gianluca va we love you Gianluca devo dire che sto meme mi ha rotto i coglioni perché su TikTok ne ho visti 14.000 però mi fa ride questa musichetta musichetta fa ride esotica la sigla che desidero mio bello goduto come sempre c'è lo stesso ragazzo che ci ha mandato pure quella di Costanzo ma in generale sì credo che sì in generale mandacela anche per mail che la utilizzeremo per le live che impattano nell'atmosfera gaming come quella di ieri ad esempio quindi cerbero inderagliabile chiocciola gmail.com stavo dicendo in romano inderagliabile sulle mela radio ma che cazzo è con bellissimo sulle mela radio dimmi un po' sino e coseno con sta rara con i capelli di rospo quindi rospo è che stette ah beh non lo so regalo troppo giovane asperimenti un attimo forse si è capito bene istantaneo sulle mela radio vabbè tipo quello di Rubino apri la porta la basi a ventenne deve andare in bagno marra apri la porta sei stato a farmi questo marra fai tiktok ancora assolutamente si ho capito dopo ho tagliato la barba dopo ali devo dire che il pizzetto diabolico me gusta questo è il mio post ok la scelta più dura della vostra infanzia è il Cerbero Podcast vai Marco ti legge tu perché sei tu professore Oacchitano ti legge tu perché sei tu no beh in inglese no dai è un leggo malissimo vai vai I'm professor Oacchitano and today I will bring you into the incredible world of Cerbero Podcast yeah Silbero Podcast Silbero Silbero vada vada which Silbero will you choose Silberino Silberino will you choose to accompany you on your next adventure yeah to wisely ma io a caso congratulations you have chosen mister flame man è bellissimo congratulations you have chosen mister marasau congratulations you have chosen dudu turtle dudu è bellissimo dudu bellissimo ragazzi giochiamo ah ok questo è vero l'ho visto pure sul gruppo situazione attuale accuratissima flame dudubbi chitano marra poi c'è una teoria dentro la teoria c'è che sei tu a martellare a non farmi dormire su che fa quella tonk tonk effettivamente sponge bob pippo 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 grazie pippo milan novara 2 a 0 un piccolo like può cambiare molto hai contribuito con un piccolo like si quanto ti è costato nulla non costa nulla un piccolo like ragazzi un piccolo sub con amazon prime non costa nulla gratis niente giusto gratis è gratis non costa nulla però può aiutarci e a voi non è gratis può aiutarci regala un sorriso lordi facebook mi interessa questo insinuo ha il daspo dal gruppo facebook si udente medio quindi non si può parlare di lui dice il mod esatto ergo fare post su lui è contro le regole si questo ha senso per me quindi se parli di lui ti cancello il post mod fasci ok su lui diciamo che ci sono dei luoghi dove non c'è quel daspo l'organizzazione sta venendo a scoprire tutti gli utenti scomodi dal gruppo facebook bello zi ma che è figo è naruto che è si 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 organizzazione alba di naruto i villain sono i cattivi si 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 cosa fanno di cattivo diciamo che loro raccolgono denaro e tentano di assurgere un compito abbastanza segreto in realtà c'è un marionettista dietro il capo quindi in realtà è tutto molto contorto ok quando ho visto questa cosa ho pensato esattamente a un porno giapponese con meduse o animali marini si a me faceva quasi schifo fare questa storia però faceva ridi si un po' mi ha fatto pensato anche ad all boy simone sa toro carina questa ora ho capito ora so bellissima è bellissima non l'ho capito porca troia identico sta così bene che credevo che era sua pazzesco marion non sta capendo allora questa è la risata di andrea del ce l'abbiamo qui è una delle risate più umili che abbiamo mai sentito si 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 c'è presente quando fai una battuta e ride la tua battuta si 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 ha la sua battuta e ha riso per 30 secondi una risata di 15 secondi pieni non è luppata questa cosa non è luppata no no è dura così ma c'è pure la io non l'avevo capito perché da fanboy di aladin io ero là a gustarmi la canzone non avevo visto che la risata era diversa c'è pure la variante abbiamo scoperto che unendo due suoni contenuti in questo stream deck e quindi ci hanno fatto queste cose bellissimo fantastico posso risentirlo per favore si 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 perfetto bellissimo al mondo sta scalinata acqua strana fare climbing come si dice questo il supereroe non è il parapendino come cazzo si chiama supereroe fare il supereroe indossare il cappello da master a lupus cerbero oddio no Achille no attenta Achille mo devi masterizzare una campagna crea l'adora si Marra ma che fai hai trovato selfie di Marra insieme a un tipo losco con tatuato l'uomo di pitch in faccia ah ma l'abbiamo visto si 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 abbiamo visto però si è un tipo losco esplosivo ah si aspetta eravamo io Robino e Gianluca asperimentila 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 ma c'è un po' lì che tagliano in quel punto Bat Pippega mangia figo Red era lo schemino del Pippega lo schemino vada sono andate avanti le indagini noi l'abbiamo detto che era tipo Batman lì a fare le indagini benvenuti a nuova ammunizione hello close shots se questi ragazzi potessero leggere sarebbero davvero tristi ah non fa ridere e quali freak sono entrati in casa mia visto che lo sai insomma anche insomma anche quando fate quelle live di Lupus entra quello con capelli blu quello vestito come in cartone animale Livio Livio Marcone è la persona più buona della galassia e benvenuti in questa nuova puntata di cartomanzia aspetta un attimo arriva indietro veniva benissimo guardate Gianluca attentamente quali benvenuti in questa nuova ma che cazzo è ma che cazzo è era indemoniato orca troia il riflesso della sigaretta negli occhiali madonna mia no rimettilo te prego arrivano gli occhi dietro la finestra guarda su MTV l'horror grandezza pupille demoniache ma raga è fatto benissimo ma questa cosa è nella nostra live quindi non è stato editato certo e ci sono gli occhiali che fanno un riflesso ma un effetto speciale è fighissimo ma è pazzesco sembra MTV l'horror quando aprono la finestra e si vede il demone perché la sigaretta e l'accendino sono le due fonti luce no vabbè bellissimo fa paurissimo Liam Grieco oggi versus domani ah quindi il figlio di Ivan ha sto coso blu in faccia anche in Asia quindi non è un fotomontaggio diciamo ok perfetto io non ho filo e posso indietro so camminare e so ballare figlio avevo e torno in più eppure non cado giù viva la libertà muovo testa mani e piede che bella novità fate tutti come me bellissimo come la preferisci per me va benissimo liscia grazie anche per me però però con due chicchie di caffè senti io ho molta sete basta aggiungere dell'acqua e tanto ghiaccio io quando ho sete la bevo così ehi l'avete provata nel caffè al posto dello zucchero in quanti modi si può gustare la sambuca ah ah non si chiama sambuca si chiama olinari olinari bellissimo yahoo yahoo ok pop sei il tossico con i capelli blu a casa di mare devi richiamare gli altri personaggi ambiti vabbè momento lì ah era questo qui eccoci qua siamo alla puntata alla parte 2 quando simone santoro rompe la glessidra cosa succederà dai schica ehi ma ma Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non tacerò mai. Potrei andare avanti fino alle due di notte e bannare e ribannare lui e chiunque mi manchi di rispetto. La pacchia è finita di Equalizer. Ma questo è vero? È quello che hai scritto tu? Sì, sì, sì. Ok, non è modificato. Mi ha mandato un extra Dave, un piccolo extra Reddit. Marco, se lo puoi inquadrare? È un essere bellissimo. Ma che era? È Dudu. Eccolo! L'ospite speciale inquietante. Bello, ok. Mi ha ricordato Wilfred. Comunque, quando si sono visti quei vari gruppi, esistono realmente? Cioè, i gruppi quelli là quando switchava gli universi, dici? C'è un gruppo per ogni cosa. Bellissimo. Bellissimo. Probabilmente da oggi ci sarà un gruppo Gli Amici di Mario Sturniolo. Wow. Dove si parlerà di? Secondo te? Teatro. Teatro. Teatro è la risposta giusta. Perché c'è musica. Musica. Cinema. Ah, musica e gli amici di Mark the Hammer. Poi c'è gli amici di Lely Adani che è calcio. Gli amici in sinu di Marra che è cinema. Manca il teatro. Teatro. Manca un po' di calcio, a me non disturba, ragazzi. Può entrare negli amici di Lely Adani. Ma indichiamoglielo a Mario. Poi c'è gli amici del Wendy. Potremmo pure dedicarlo a Mario. Il Mario è esperto di calcio. Gli amici di me. Puoi entrare in quel gruppo come moderatore. Perché no? Se lo volete, ragazzi. Oh, ragazzi, contattatemi su Telegram. Qua c'è scritto un mese intero per realizzarlo. Un po' diverso dal solito. Spero vi piaccia. Vabbè. Amo queste cose. Grazie pure a Funtuts Pop. Top. Questo era l'altro che volevo farvi vedere, ma c'è già. Allora, Life After Kitano volume 2. Top. Stai un capolavoro, ragazzi. Ho visto un minuto. Oh, porco Dio. So io è il vero Kitano. Cioè, dimmi un po'. No, aiutami. Aiutami. Ma... Ma tu stavo? Ma che sta succede? Vi è qua, vi è qua, vi è qua. Ma tu sei? Capitale. Marco Lì, ma che stai a fa'? Vi è con me, ti devo spiegare un po' di cose. Vabbè, capolavoro, ragazzi. Grazie mille, fantastico. No, hai pa' di cose. Ho pa' di cose. Ma, ti regà. Attenzione. Tutte le anime e i mignotoni in arrivo devono sostare fuori dalla porta. Aspettate il vostro turno, prego. Do stamo Francie? Stamo nell'Olimpo dei Campioni. O come voi chiamate, il Limbo. Ma che stai a di zì? So morto? Non tu ricordi? Ti hanno sparato, hanno fatto air goal. Mi dispiace, Marco Lì. E ora cosa faccio? Io non voglio... Radiohead in sottofondo. Bello. No, brividi, sono morto. Capità. Non posso fa' nulla chità. Tra l'altro, questa canzone di Radiohead, ragazzuoli della band, Daydreaming, non so se la conoscete. L'arpeggio sta facendo D-E-A-D. Cioè, Re, Mi, La, Re, Dead. E loro sono morti, perché parla di morte, parla tutta questa cosa qua. E... E' una chicca musicale, caruccia. Sì. Io al canale credo Iommi... Sì, Iommi.x. Sì. Credo si chiami così anche su YouTube, in caso Mod se lo potete linkare. E da quello che ho capito l'ha aiutato anche Fantuz. Ce l'ha scritto. Io non voglio morì, capita. Non posso fa' nulla chità. E' a vita. Vi è come, ne parlamo co' tranquillità. Per Adriano Celentano è romano. Arbis, splendida sirena. Arbis, splendida sirena. Arbis, lupus. Io non ce sto più a capir, cazzo. Pare d'esta a lupus. Chi so' questi francie. Perché mi somigliano? A che tà, qua so tutti te. So tutte versioni di te stesso. Tutto ciò che saresti potuto a esse, che sei stato, e che saresti stato. Ognuno di loro è nato, ogni volta che hai fatto una scelta che ti avrebbe cambiato la vita. Perché continuano a dire Barbie, splendida sirena. So costretti a vagare in eterno in questo posto. Quello è il loro lamento per non aver vissuto la loro vita. So come eutras da Roma quando er capitano non fa gol. Accapità, ma quindi, se questo è il limbo, te, sei Dio? Eh, a Marco lì. L'unico vero Dio, qua. E' il pallone. E mo sbrigamo cè. Ti devo fa' vedi na' cosa. Che tà, ti c'è credi in Er Paradiso? Non penso esista. Prima di venire qua, io pensavo che Er Paradiso fosse un campo di calcio bello verde. Invece, Er Paradiso, sta in sto buco. Wow, chiamano Afterlife, ma inglesi pronunciano Afterlife. E' bellissimo Capità. Lo so. Ma ora tocca a te Marco lì. Cioè? Che stai a di zì? Non puoi andare lì dentro. Non ancora. A mia Capità. A vita m'ha fottuto. So morto. Perché non mi merito di vivere dall'altro lato da realtà? Non ti posso fa' passà a Marco lì. Per veder Er Paradiso, Davi lascia indietro tutti i tuoi rimpianti. E' proprio per un tuo rimpianto che sei morto. Che cazzo stai a di? Che sta succedendo? Capità che cazzo mi stai facendo? Capirai presto. Cambia Er Tuo Destino Chita. Questo è il mio ultimo messaggio. State buo. Aoooooh. Donna che flisciata ragazzi. Nooooooo. Sto viaggiando. Ma che cazzo sta succedeee? Porco di ooo. AHAHAHA. Aiutatemi. Aaaaaah. Dio Cane. Grazie a tutti. Bellissimo. Capo lavoro ragazzi. Bellissimo. Quando si vede il Chitano regista vincitore dell'Oscar mi sono emozionato. Bello 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 bello. Porca troia. Lucia Roma dice bellissimo. Quindi Yomi top. Comunque ragazzi. Io pure. Veramente sono contento di questa svolta del Reddit e di questi artisti che ti prestano. Un posto creativo. Sì è veramente bella. Sorto dal nulla. Bellissimo. E stati bravi voi a renderlo un format fisso così la gente si è appassionata. E si è messa lì. Sentite i motivati. Esatto. Grandi artisti. Ma veramente ragazzi. Penso che nel corso degli anni possiamo contare almeno una quindicina di talenti. Il 10 luglio ci sarà il primo evento del Cerbero Ponto. Comunque il 10 luglio. Biglietti quasi sauriti. Punto esclamativo parte. Scusate ho cliccato per sbagliare la tastiera. A me è piaciuto tantissimo. Ci sarà anche Mario e ovviamente anche i mercanti. Quindi venite il 10. Ah questa. No vabbè non la dico per rispetto. Ma la dico dopo. La posso domandare se se suona o cose del genere. O è un. Allora sicuramente c'è il DJ set di Dave. Ok. Quindi se suona. La musica c'è. Poi tutto il resto ne discutiamo extra. Vediamo. No non la dico. Secondo me si può organizzare qualcosa ma così di. Tipo te. Ciao. Ti è esatto. Te. Ciao. Esatto. Quello sarà fatto. Comunque ci si divertirà questo è in dubbio. Allora oggi ho visto una signora che in centro all'aperto alla aperto. Girava con mascherina e guanti. Se c'era Simone l'avrebbe giudicata come plagiata dalla mascherina. Un po' scritto. Perché di Torino era in via Roma. Altezza Erbos. Vabbè cate ma non me ne ho capito. Codice fiscale. Vabbè Simone quando a scuola lo giudicavano come si vestiva. Per come vabbè. Simone quando fanno i lavori al mattino la gente lo giudica. Simone quando deve giudicare una persona che si vuole mettere la mascherina anche se non è obbligatorio. Eh sì. Faride. Cazzo basta. No no. E ora ritocca a me. Pare che me vuoi scopare. Non importa se. Sei eterosessuale. Con il ditino. Leak del pacchetto del CEO o foto riassuntiva dei tuoi giorni di Boscar. Il fumo va solo se è Buburus. Ok. Stile di video. CEO Sterfield. Bello le CEO Sterfield. Sì. Ma col Sena è un tuo amico. Io non con me. No no dai. Vado avanti. Bob sei chitano e nei sei anni migliori e noti una donzella che ti attizza parecchio. Queste facce sono meravigliose. Mi aggiamo proprio così. Deformate. Ma perché il chitano è entrato così nel cuore delle persone? Volevo non battere d'occhio. Ma come se fosse la persona più buona dell'universo. L'inizio era un po' iterato. Ma dai coglioni. Per il pregiudizio. Poi è bastato pochissimo. No da quelli che hanno visto cambiare. E gli scopare spaventa il cambiamento che stava a dire. Come il nuovo studio. Tante cose. Però il cambiamento è importante Mario no? È dovuto e succede naturalmente. Quindi se non ti piace ti attacchi al cazzo. Avviene lo stesso. Bello. Detto ciò era meglio il cerbero nella caverna. Insostituibile non tornerà mai più. No sono contento perché potevo risultare come un intruso. Cosa che all'inizio era pure naturale. Quindi vi voglio bene ragazzi. Sono contento. Anche noi Marco vi vogliamo bene. Sei uno di noi. Che bello ragazzuoli. Sei life grade. Anche pagliativo alcuni mi hanno chiamato. Penso anche che hai dimostrato un po' al di là della simpatia e tutto. Pure il lavoro. Si dimostra pure così. Se avessi lavorato a cazzo dei cani non ti avrebbero amato nonostante le faccette. Ma anche soltanto per esempio la cosa che fate sulle inquadrature del cinema. Di quei due episodi che avete fatto. Lo dobbiamo riprendere. Tocca rifarlo. È bello. Io lo aspetto. Grazie. Lo faremo solo per Mario. Dedicato a Mario. Per l'appunto abbiamo qui una clip di Kitano e le ROM. Questo c'è scritto. Vediamo un po'. Ma dici che sono autonome o c'hanno un... Che ne so. Che ne so. Magari lo sapevi. Non hai frequentato una ROM per sette anni. No. Una ROM modificata. Beh Marco tu che comunque tenete il tempo. Per esempio ci sono le challenge sui giochi Pokemon dove tu modifichi un po' la ROM. e... Non so. Qua te ne posso citare una. Randomizer. Che è una challenge dove praticamente... La ROM è modificata mi interessa. La ROM modificata non è altro che il gioco... La ROM modificata fa piacere. Non sto scherzando. È un'esperienza particolare. No vabbè. C'è serio. I moni pure c'è la ROM modificata. No no no. Vabbè la ROM. Vabbè andiamo avanti. Non mi ricordavo dove ho detto. Una cosa così un po' goliardica. C'è un po' di goliardia. C'è un po' di goliardia comunque. Eh no ma... Cambia un po' il gioco quindi tipo. Praticamente il gioco cambia. All'inizio invece di scegliere... Federic che palesemente è l'imbarazzo proprio. Fender potresti scegliere il leggendario di turno. Il leggendario di turno. Fa ridere. Fa ridere. Assolutamente. Senza pure. Ma potete che Mar ha riso dopo però capito? No ma ma... Ma fa in serio e per 20 secondi poi... È la ridondanza capito? Mi presento la mia ragazza della ROM modificata. Vabbè. La ROM modificata. Quello sta a dire. Ah ok la PSP la PSP. Eh quella è una modifica. Eh bene. Ok. Chi conosceva la LOR ha capito. Il secondo di vuoto è perfetto. Sì. PPP mettiamo un nuovo ruolo al lupus. Chiede meglio. Che verrà picchiato. Giusto. L'altra volta quando ha detto Ah potremmo inserire il ruolo del... Ah sai che effettivamente c'è un ruolo figo? Il licantropo. Il licantropo? Il licantropo? Come? No il licantropo. Ah il lica scusa. Però è un po' difficile perché... L'unaccio. È difficilissimo perché lui non deve sapere di esserlo. Giusto. E tipo di notte uccide... Il licantropo non sa di essere. Tipo se si gratta la testa amore quella si... Hai capito? E poi c'era un altro... Che sbaglio. C'era un altro interessante. Ah quello è tipo figlio dei lupi e il licantropo. L'ammazzano i lupi e diventa lupo. No quello è l'indemoniato speciale. Magari si può chiamare pure licantropo. Siamo noi che l'abbiamo chiamato l'indemoniato speciale. Sì, volendo sì. Vabbè, poi comunque valuteremo. Andiamo avanti. Bello. Greve citazione a due dubbi. Tu che sull'amore è ben meglio. No, zero. Perché non contiene zuccheri. Non è che qualsiasi cosa che non contiene zuccheri è una citazione a me. Vabbè. Ok. Non è una citazione. Ah tra l'altro a proposito di trasmissioni politiche. Mi viene in mente adesso. Hai presente la trasmissione di Zorro? Zorro? Eh. Ha fatto vedere anche lui la tizia del Corsiva. Ah. Sì. Ma tipo ieri, l'altro ieri. Grande Zorro. Sto sul pezzo. Dunque. Visto che il vostro browser continua a scammarmi dai meme per via di alcuni bug insinui. Aspetta, li metti un attimo all'inizio? Dunque. Dunque. Va dal punto, per cortesia. Visto che il vostro browser continua a scammarmi dai meme per via di alcuni bug insinui. posto i due video meme che per ben due volte mi sono stati scammati male. Più un altro meme trasformato in video. L'ordine è casuale. Let's go. Ed ora l'ultima domanda. Chi vinse il premio Nobel per la fisica nel 1938? Quello di audio bar. No, 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 no. No, 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 no. Voi sapete che cos'è? È un album sicuramente ma non lo conosco. Anche gli amici di Mark Dehammer sanno. No. Io non so. Perché di Simone sa? Non lo so. Non so. Ah, nel gruppo musicale. No, se è un bell'album me lo sento però. Ma il 100... No, mille jack. Mille jack. Mille jack. Sta roba. No, 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 no. Una signora va dal ginecologo per farsi visitare. La signora ha avuto quattro mariti. Il ginecologo si accorge che questa signora è ancora vergine. Dice signora, ma com'è possibile che lei è ancora vergine avendo avuto quattro mariti? Vede, il primo era un pianista e usava solo le mani. Il secondo era la vociade e usava solo la lingua. Il terzo era Simone Santoro. Solo promesse. L'ultimo era del merch. Solo inculate. Merch. Crepe. Crepe. Questa era critica, questa era... Crefissimo. Questa è una scosta nel... Rivoluzionaria quasi. Cattivito, eh. Cazzo vuoi da me? Che devo fare io? Era mi dispiace per te. Perché per me? Non te lo meriti. Non te lo meriti. Ma che ho fatto io? Gli zaini sono andati benissimo. Ma infatti non lo considero affatto uno scam quello. Penso se riferissi all'ultimo merch. Quale? Nessuno, in effetti. Vabbè, ma era una gag, dai. Una gag. No, siamo offesi. Basta. Vecna, Stranger Things, se Vecna dovesse catturarmi, usate questa canzone. Tu lo sai, Davide, la lord di tutto ciò. Assolutamente no. Vabbè, forse è uno spoiler, però vabbè, se stiamo per vedere sta cosa, lo devo dire. Vabbè, per sfuggire a Vecna devi sentire una canzone... Anzi, la tua canzone preferita. Ok. Bellissimo. Non trovi mai quel che ti aggrada. Cerchi sempre... Sta patata. Quello è il mio cibo preferito. Però questo è il contrario, cioè. Che cazzate. Vabbè. In quanti modi si può gustare? Il Pi Pega, se Dutubi non avesse mai detto, Ambedi che boccia, Ambedi che zinnone. Vivo per strada, un quarto di euro per me è la vita. Deve tutto a Simone. Ma, ragazzi, pensateci un attimo, ma è l'unico che deve tutto a me. Andiamo avanti. È l'inizio di una nuova terrificante saga. Ok. C'è pericolo in quella casa, va bene. Alex Mucci, Davide, mi si. Va bene. Ma quella è Livio, aspetta, aspetta, fammelo vedere bene. C'è Livio. C'è Livio. C'è per Podcast, riassunto della settimana 4. Numero 4. Però questa è la settimana scorsa. Beh, sì. Però applicabile anche a oggi. Sì. Bellissimo. L'istorizzo per Mario e Mercanti. Allora, questo ragazzo fa una sorta di riassunto. Tipo blob. Sì. Con altre immagini, però. Eventi... Rilevanti, diciamo. Rilevanti della settimana, associati a videogiochi, film, altre cose. Esatto. Quindi il nuovo orologio di Marco Ecorro lo sta facendo vedere. Esatto. E poi, azzì, il paragone con il Pip-Boy, l'abbiamo fatto pure noi, se ti ricordi. Sì, sì, l'abbiamo fatto in privato. Ma l'ho scritto anche nella sceneggiatura. Ah, ok. Che leggero. Quindi, c'è assurdo che hanno... Ah, sì. Assurdo che hanno... Ci conoscono troppo bene. Sanno quello che diciamo anche off-live. Sì, vabbè. Sì, vabbè. E' una lancia meccanica. Sì, sì, sì. Non lo so. Sì, sì. Sì, sì. Top. Top. Bello. Mi? Rubino. La Spanghagge? Mi? Rubino. Ok, va bene Bellissimo E' la canzone Napoli Chitano Non capivo il senso Napoli Chitano E' la canzone Napoli Chitano Anche Milano però Anche Milano Sì, lo fanno pure i milanisti Se voglio Allora Eccoli là, quello che dicevate prima Amici della Dan, Insigni di Marra Wendy, comici di Mark Graham, Marcello Podcast E amici di Tudub Bella, pure una bella immagine Eh sì Sì, molto complice Lupus, greve Identificato Graffitista fan del Cerbero a Napoli Top fan di Lupus Colori palesemente ispirati alla pelle verde E al capello blu del Goblin Livio Cosfondo in viola cerberesco Greve, non fate queste cose Palese Cioè fatele nei luoghi appositi Non sui treni Ma che è sta cosa Un telegiornale straniero Pripredolani Non capisco È colpa mia Colpa mia Ho costretto Tommaso Alla fuga Tommaso Era un eroe Solo che io Non l'ho capito Era un Ladro Il nostro amichevole Tommaso Il quartiere È una minaccia per la città Voglio che Tommaso Sia processato Voglio vederlo impiccato Alla sua ragnatela Sì a voi Ridolà Questo ragazzo Mi ha scritto su Facebook Chi è? Cioè? Cioè? Ma Dicci un po' Ma ha scritto un messaggio affettuoso Che io ricordi Non so altro Che ho ringraziato Mi sa Mi pare Chi è questo ragazzo? Il ruolo ha? Oppure una domanda Che mi ridiro immediatamente Fatemi capire Vuole rispondere Simone Prego Ha il daspo Ha il daspo Ha il daspo totale Vabbè Diciamo un utente Molto attivo Nei gruppi Facebook Che ti abbiamo fatto vedere prima Poi ci sono Ci sono azioni giudiziarie in atto E non posso veramente Hai fatto azione su lui Ho fatto azione Ho fatto azione Sì sì Quando c'è voce Ho fatto splash pure Azione Whiplash è un bellissimo film Volevo ricordarlo Ho visto l'attore Madonna Madonna Troppo Sì questa è una citazione Palese Stupendo sì Due volte Vabbè due volte Grazie E già mi immagino Il tatipologico Rick to Fer Ormai basta Azzicchi Ha qualcosa da dirci? E già mi immagino Il tatipologico Di commenti Che ci saranno sotto a sto video Allora mettete like Scrivete Ho contribuito con un piccolo like Virgola Non mi è costato nulla È vero Perché sarebbero stati quelli commenti Ma lui non se lo sarebbe mai aspettato Bellissimo Sì sì L'avevamo detto pure in live Sì Ci assomiglia una cifra Un po' sì Ci assomiglia Prendi il mic Che non si sente Assomiglia al fratello di Tago Questo signore qua Azzicchi Sì dicevamo Pensavo fosse lui Assomigliava al fratello di Tago E un po' pure a Rick Duferre Al minimo ce l'ha pure di Rick Duferre Effettivamente Vero Vero Anzi Ha maggior ragione Ha maggior ragione Oh Dio mio Ci sei Jarvis Al suo servizio signore Va bene Che ne dici Dai rimettilo un attimo La sua risata è identica Ci sei Jarvis Al suo servizio Bravi Che bene Appena l'ho sentito Dal Chitano Puoi finalmente Comprare dello sballo Chitano ha iniziato A vendere I decini in piazza No Ho avvistato così Non è vero Non è vero Non è vero No Perché è pelle di me Non è vero Simone sa Random Pictures È una falena Mi ricorda Qui dal di Resident Evil 2 E il boss Al laboratorio Questo lo so Questo lo so Sì sì È un boss Che era il boss Che mi faceva A bloccare Quando ero piccolo E non andavo avanti Perché mi terrorizzava Lo facevo fare a mio zio Mi ricordo Questo lo so E ho paura Delle falene E delle farfalle Da quando sono piccolo Ma io non capisco Questi meme Perché assomiglia Andrew Garfield No Non è Andrew Garfield Quello è Tom Holland Ah dici Quell'altro assomiglia No no Quell'altro è Andrew Garfield Ho scambiato proprio I nomi No ok Questo è Andrew Garfield Sì No perché Immagino che questo ragazzo Visto che c'è il Daspo Non si vede più Quindi Ovunque vedo la sua faccia Mi manca Sta iniziando a capire Sì sì Ma non Non ne parliamo Però ero firmato Dio dubbi Alle 15.01 Sì che taglio Giorgia Per qualcosa di importante Forse un ricevimento Signor Coniglio Aspetti No 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 È tardi è tardi Sei Sono pure io Posso dirti ciao Aspetta aspetta Sei L'altra volta l'ho messo in play Mentre uscivo Non hai mai fatto tardi No proprio per questo Corro Capito Alle 7.30 Ah c'è alle 8.30 Già sto qui Quindi alle 8 Già parte Timone sa Tardi 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 Remake Non arrivo tardi Proprio perché faccio Come lui Non diretto da te però No no È tipo abusivo Bello Versione dell'Eurospin Le origini del Marra imitatore Non ne usciamo più Non mi fate fare il Maurizio Costanzo Dai Io voglio iniziare dalla cosa Non ne usciamo più Premunizione totale Sì sì Preveggenza direi Inserzione vera per una maglietta Contro certi streamer IRL insinui Swipe per la mia versione alternativa Sperma la Z Acquista ora la nuova t-shirt Ok No vabbè Eh ok Un po' greve Era intuibile comunque Non si era già capito qua Eh Vabbè Aspettavamo un po' tu Beh no Si aveva un po' pensato pure Pro Lidens Ok La rabbia Che ho dentro Tutta la rabbia Tutte le volte che mi hanno Distrutto a terra Tutte le persone che ho perso Tutte le persone Anche se fa strage mondiale L'altro meme top sottovalutato è Nemmeno chi fa strage Bellissimo ragazzi Una strage mondiale Inventarmi sette miliardi di volte Sempre con onestà Facendo in tutto quello che potevo Sono andato a germare Sono andato al mondo Ha seduto a Milano Ho fatto cameriera Ho fatto di tutto Non avete idea Non avete idea Di quello che ho subito Di quello che ho passato Di quello che passo E sono due anni che continuate Ok Hit mondiale Hit mondiale Ma domani No domani Lunedì Ore 15 Rick Duferri studio E ascolteremo processione Faremo analisi del testo Esatto Bellissimo Forse alle 21 Forse però Mi devono confermare Ci sarà uno scontro in diretta Tra Alex E una influencer di TikTok Contro il sex working Al cerbero Olè E vabbè Sta bella incattivita lei Olè Ottimo Sì Storie Non vedrò che ascoltare Quel gallinaio Così in panciole Guerra tra donne Ci interessa Buongiorno Buongiorno Regà dopo un bel bistecchone Adesso si fa un'oretta di sonno E poi si parte per il content Ci vediamo al centro di Roma Ok Vabbè Storie mattutine Finito Vabbè come ultimo ci sta Top Top Ben Reddit Mi è piaciuto Un sacco Migliorate ogni settimana È proprio bello È proprio bello Perché Si vede proprio che c'hanno talento Cioè È un bellissimo scambio Vero Beh ragazzi Grazie mille ai mercanti Grazie mille a Mario Grazie a voi Mi sono divertito un macello È stato un piacere Cazzeggiare con voi Il sabato Nel chilling Piacere nostro Piacere nostro E grazie a voi Seguite ovviamente i mercanti E Mario Sturniolo Su Twitch Supportateli Perché sono due Top Scoperte Internazionali E italiane Grazie Noi ci vediamo lunedì Ciao a tutti Grazie a Cerbero Ciao Grazie a Cerbero Ciao Lunga leader Cerbero Podcast State arrivà E' l'ho Croccia Grazie a Cerbero 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 State pure registrando Ah merda Tutti al bagno Come ti fatti? Grazie.